Ora io chiedo, nelle sue rivoluzioni, la natura spirituale deve avere più riguardi che non quella fisica. Aghiacciato tremar tra nevi e al genti, al severo spirar d'orrido vento, correr battendo i piedi ogni momento. Vengono coprendo l'air di nero a manto e lampi e tuoni ad annunziarle ai letti. Sembra che in questa assemblea ci siano delle orecchie sensibili che non possono sopportare la parola sangue. Non siamo più crudeli né della natura né del tempo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.